Perfetto, allora partiamo la registrazione, buonasera a tutte, grazie di essere venute. Allora, l'argomento di questa sera è l'importanza della scelta degli alimenti al fine del conseguimento chiaramente dell'obiettivo vostro estetico. Allora, quanto è importante la selezione di un alimento piuttosto che un altro? Sicuramente è molto importante, c'è anche da capire un aspetto fondamentale. Qual è il vostro obiettivo? Cioè, se voi avete degli obiettivi elevati, sicuramente andare a fare un'attenta selezione di ciò che è andato a mangiare è, io non dico importante, dico fondamentale. Se invece chiaramente abbiamo delle ambizioni un po' meno marcate, sicuramente possiamo essere anche un po' flessibili, o perlomeno più flessibili. Perché utilizzo il termine flessibile? Perché chiaramente avrete sentito un bleardo di volte dieta flessibile. La dieta flessibile è di qua, la dieta flessibile è di là. Cos'è la dieta flessibile in soldoni? La dieta flessibile è quella dieta in cui ti danno i macro e poi ti dicano, guarda, rimani in questi parametri e mangia ciò che vuoi. È funzionale? In parte. Per quale motivo in parte? Perché sicuramente, appunto, se c'è l'obiettivo di demagrire, ci si mette in deficit e si fa attività e si mangia, diciamo, un introito calorico totale inferiore a quello che in realtà necessitate, è chiaro che demagrite e va bene così, se quello è il vostro obiettivo. Nella realtà non va poi molto bene quando l'obiettivo estetico è un pochettino più, chiamiamolo, impegnativo. Per quale motivo? Per due motivi. Perché ci sono degli alimenti che sono meno performanti rispetto ad altri. E per performanti mi riferisco, soprattutto in chiave femminile, ad esempio, su un discorso della ritenzione idrica, ci sono tanti alimenti che il vostro corpo tollera meno e di conseguenza anche dal punto di vista della risposta hanno una risposta meno adeguata. Per esempio, i latticini su tante di voi creano ritenzione idrica, i legumi su tante di voi provocano gonfiore, la soia su tante di voi provoca ritenzione idrica e difficoltà nel demagrimento. Quindi ci sono tutta una serie di alimenti che sicuramente bisogna fare un po' attenzione nell'inserirli nel contesto di un piano alimentare se abbiamo dei traguardi abbastanza ambiziosi. Se invece, diciamo, facciamo le cose un pochettino così, con un po' di pressapochismo, se così lo vogliamo chiamare, allora magari potrebbe andare bene. È chiaro che essere flessibili delle volte ci permette di uscire dalla noia, ci permette di avere appunto una maggiore proprio elasticità. Però è anche vero che se il nostro obiettivo è quello di migliorare, a mio avviso invece certi aspetti bisogna tenerne di conto. Senza considerare anche un altro aspetto che è importante, che quando si va solo ed esclusivamente a guardare i macro e non la natura dell'alimento, quindi si va a scegliere l'alimento in base a quello che ci piace, spesso poi ci ritroviamo a mangiare dei cibi che hanno densità caloriche elevate. Allora, se vogliamo rimanere in un certo range, dobbiamo mangiare poco, quindi ci ritroviamo a mangiare delle quantità di cibo veramente piccoline. Perché se pensate, io faccio sempre il solito discorso del volume dell'alimento, no? E della densità calorica. Pensate alla densità calorica, e per densità calorica si intende il numero di calorie in relazione al volume dell'alimento. Pensate alla densità calorica di una mela e pensate alla densità calorica di un hamburger, del McDonald's per esempio. Cioè sono due alimenti che hanno più o meno lo stesso volume, se l'è andata a vedere. Però una mela occupa un certo tipo di volume, mentre una burger del McDonald's ha lo stesso volume della mela, ma 10 volte più calorie. Quindi se noi facciamo il classico conto della serva, e andiamo a prendere le calorie, semplicemente dagli alimenti che ci piacciono di più, inevitabilmente cos'è che ci troviamo a fare? A non mangiare niente. Oppure a sbagliare e a mangiare troppo. O perlomeno ad andare a introdurre troppe calorie. Ok? Quindi questi sono due aspetti. Nel contesto della dieta flessibile, sicuramente non sono corretti. Allora, quello della densità calorica degli alimenti, diciamo che spesso le persone, poi la quadra la fanno tornare lo stesso, no? Perché giustamente fare un calcolo matematico, anche se secondo me non è molto pratico, ok? Per ritrovarsi a impostare la propria giornata con la calcolatrice alla mano, andare a fare tutti i calcoletti, delle cose che si può o non si può mangiare, per rientrare in determinati macro, ok? Però diciamo che se uno si impegna un po' lo può anche fare. Ma dall'altro lato, invece, quando si parla proprio di risultato, cioè quindi di scegliere un alimento che ci porta a un certo tipo di risultato, cioè se si va a caso, poi non ci si può lamentare se il risultato non si ottiene. Ora io non voglio arrivare a dire sempre lo stesso concetto della soia, in tutte le salse ve l'ho detto, ok? L'altro giorno, per esempio, queste sono cose che magari potrei anche omettere, però la Sunam Nutrition, un'azienda per la quale, tra virgolette, collaboro, mi ha mandato le baguette proteiche. L'ho provate e hanno dei valori eccezionali, cioè ma veramente hanno dei valori eccezionali, ok? Per quale motivo? Perché, se non sbaglio, una baguette ha pochissimi grammi di zuccheri, 2-3 grammi di grassi e mi sembra 25-30 grammi di proteine. Cioè praticamente non c'è niente di... Cioè, sicuramente ingrassare non fa quel prodotto là, però è a base completamente di soia, ok? Quindi, cos'è che vuol dire? Vuol dire che è un alimento che sicuramente, a molte di voi, se cercate di combattere la ritenzione idrica, non va affatto bene. Questo l'abbiamo spiegato più volte, ma non sono l'unico che dice questa cosa, per fortuna, ok? Quindi, anche se magari l'azienda che, tra virgolette, mi sponsorizza, lo produce, io quello che posso dire è che dal punto di vista dei valori nutrizionali è eccezionale. Io onestamente non avevo mai visto dei valori nutrizionali di quel tipo con un prodotto che aveva un'appetenza del genere. Cioè, perché sono veramente buoni. Sono veramente, ma veramente buoni. Soffici. Io l'ho mangiato con la marmellata. Cioè, erano veramente ottimi. Però, ecco, dal punto di vista prestazionale, sicuramente sono prodotti discutibili. Secondo me c'è da fare questa valutazione. Per quale motivo? Perché voi fate mille sacrifici per cercare di mettervi in forma e poi magari vi perdete in certe cose che obiettivamente poi vi portano fuori strada. La stessa cosa, per esempio, vale anche per i latticini. Non su tutte, ma su tante di voi, un eccesso di latticini porta ritenzione idrica. Per quale motivo? Perché il latticino è un alimento che di per sé è difficilmente digeribile e quando andate ad affaticare i processi digestivi, il corpo trattiene acqua. Quindi anche questo è un aspetto da tenere in considerazione. Spesso noi, per esempio, consigliamo lo yogurt come alimento. Per quale motivo? Perché comunque lo yogurt è un alimento piacevole. Si trasporta con facilità, se così la vogliamo dire. D'estate si mangia volentieri. Però ci sono alcune di voi che obiettivamente mangiarlo tutti i giorni non è il massimo. Cioè, quindi, si può mangiare lo yogurt? Sì. Però capiamo anche come rispondiamo noi a quell'alimento là, ok? E capiamo effettivamente quanto ne andiamo a mangiare. Tutte queste valutazioni e tutte queste osservazioni che ho fatto stasera sono per farvi capire che io non è che sono assolutamente contrario alla dieta flessibile. Però sono contrario a chi sponsorizza la dieta flessibile al fine di una massima performance. Perché se si parla di sì, ok, mangiamo sano e volevamo se bene va tutto bene. Perché poi alla fine se i macro tornano siamo in uno stato di leggero deficit calorico e magari venite da una situazione in cui avete sempre mangiato male. Sì, migliorate. Certo che migliorate. Però quando magari avete delle ambizioni un pochettino più elevate e invece da dove prendete i macro è importante come. Cioè, è importante come. Quindi dire che non lo è secondo me è un'eresia. Questo è un discorso estremamente generico. non mi sto riferendo cioè sto parlando a braccio. Quindi magari dall'altra parte dello schermo stasera c'è tutte ragazze che invece fondamentalmente gli interessa sì, stare bene magari perdono un po' di peso e cercare di avere un'alimentazione sana. E va benissimo. Però quando invece si va a ricercare quel pelo in più è sicuramente invece bisogna starci attenti da dove si prendono i macro da dove si prendono le calorie in generale e quant'altro. Quindi questo è un po' il tema di questa sera. Chiaramente chi oramai da un po' di tempo a che fare con me oppure ha avuto modo anche di fare delle chiamate private con me e è ambizioso sa che io davanti alla persona ambiziosa sono pignolo. Ma io non è che sono pignolo perché mi va di essere pignolo. Sono pignolo perché so come girano le cose. Cioè, delle volte non si migliora nemmeno se siamo precisissimi figuriamoci se figuriamoci se non lo siamo. Cioè, figuriamoci se abbiamo delle cartucce da sparare e invece ci lasciamo il colpo in canna. Quindi io non voglio io non sono un fautore voi lo sapete degli estremismi perché l'estremismo non va mai bene però c'è anche sempre da pesare l'obiettivo che vogliamo raggiungere quanto è importante per noi e quanto siamo disposti a mettersi in gioco. Quindi questo è importante perché se abbiamo se siamo ambiziosi e abbiamo un obiettivo importante dobbiamo capire che l'impegno deve essere in linea con il nostro obiettivo. Ok? Altrimenti purtroppo non si va d'accordo. Se invece siamo un pochettino più alla vivi e lascia vivere mi va bene migliorare un po' perché magari io vengo da tutta la vita e ho mangiato uno sfacelo allora va bene. Bisogna sempre stabilire quali sono le nostre misure. Ecco qual è la nostra misura? Tutto qua il nostro canone. Questa è una cosa io mi ricordo che quando oramai svariati anni fa facevo le gare chiaramente dovevo rientrare in determinati canoni e io quando cominciavo a mangiare a dovere prendevo uno spazio del mio frigorifero ci mettevo solo le mie cose erano contate erano quelle lì e non si sgarrava. Era così. Cosa si mangia? Si mangia pesce albume e pollo e riso bianco e c'era solo quello. Le verdure quei due tipi e c'era solo quelle le quantità erano quelle della settimana addirittura quando andavo in macelleria mi facevo fare già da loro tutte le monoporzioni e questo era. Questo non vuol dire che è un metodo che deve essere applicabile a tutti figuriamoci è da applicare a chi ha delle ambizioni estremamente elevate perché se no non andiamo d'accordo cioè se le vostre ambizioni sono estremamente elevate come all'epoca le avevo io trovavo delle soluzioni che magari a qualcuno possano sembrare estreme però per un risultato estremo ci vuole anche delle azioni che sono altrettanto estreme purtroppo è così.